Amici di Tecamachia di Inocchioteca, eccoci qui in un nuovo breve video. Oggi torniamo a parlare di Alcatel e del suo Pop 4S, un dispositivo di fascia medio-bassa ma dalle caratteristiche davvero molto interessanti per il prezzo che ha. Di listino è 229€ ma ovviamente lo possiamo già trovare a qualcosina meno su internet. Perché caratteristiche interessanti? Beh, innanzitutto abbiamo un processore Octa-Core che permette di far girare tutto molto molto bene, il sistema operativo ovviamente Android Marshmallow 6.0 quindi una delle ultimissime versioni che si possono trovare sul mercato e come dicevo gira tutto molto bene grazie anche ai 2GB di RAM. Come memoria interna abbiamo 16GB che può essere espansa tramite microSD, abbiamo il dual SIM e abbiamo il supporto alle reti LTE appunto quindi che ci permette di andare e navigare in maniera veloce e rapida all'interno dei siti internet. La quantità audio anche di questo Pop 4S è in linea con l'ottima qualità audio degli altri dispositivi di fascia più alta di Alcatel. Abbiamo delle cuffie che sono comprese all'interno della confezione, sono marchiate JBL e suonano davvero molto bene. Ma anche i due altoparlanti che si trovano sul retro devo dire che non sono di meno. Andiamo ora a ascoltare un pezzettino di canzone e vi farò spero rendere conto appunto della qualità audio di questi altoparlanti. Come avete sentito davvero un'ottima qualità audio anche quando si appoggia gli altoparlanti scusate non vengono coperti troppo anzi si amplifica ancora di più la qualità audio. Davvero molto molto bene perché sapete che sono un amante di questo genere. Abbiamo purtroppo non abbiamo l'ingresso Type-C ma ancora microSD ma abbiamo comunque una ricarica rapida che ci permette di caricare appunto la batteria anche in 30 minuti all'incirca la metà della percentuale della batteria. Batteria che ha una dimensione di circa 2960 mAh ecco batteria che non è removibile nonostante si può come potete vedere e togliere la scocca ma la batteria come ci ricorda anche l'avviso non è removibile. Ovviamente questo ci permette di inserire le varie micro SIM e nano SIM e la SD per ampliare la memoria interna. Dicevo cosa non da poco anche su un dispositivo del genere è trovare l'impronte digitali cioè il lettore di impronte digitali per poter sbloccare il telefono. Tra l'altro funziona molto bene perché come potete vedere è molto molto rapido lo si trova in questo tasto centrale e appunto tenendolo premuto, premendo e poi appoggiando il nostro dito sblocca in maniera facile e veloce direttamente il telefono. Come fotocamera che cosa troviamo? Troviamo una fotocamera sul retro da 13 megapixel con doppio flash LED e una fotocamera da 5 megapixel eccola qua con un ampio angolo di visuale perché è di 84.4 gradi e quindi questo ci permette ovviamente di fare sempre ottimi ottimi selfie. Io sbaglio sempre ad aprire l'applicazione, ho messo questa applicazione che ha la stessa figura della fotocamera fotocamera che funziona abbastanza bene nel senso che è buona la qualità, non è ovviamente eccelsa il focus non è velocissimo però si difende bene. Abbiamo anche in questo caso delle diverse modalità tra cui anche la possibilità di leggere i QR code direttamente dalla fotocamera che non è affatto male anzi è molto comodo. Adesso vi faccio vedere una delle fotografie che ho eseguito qui continuo a chiedermi le solite consensi ecco qua e abbiamo questa è la qualità della fotocamera che ripeto non è assolutamente male però quando si ingrandisce ovviamente un po' di rumore lo si vede. Il peso è di solo i 150 grammi quindi si stiene molto bene in mano, la qualità costruttiva è ottima devo dire per appunto i 229 a cui vi viene proposto questo Pop 4S. Un altro dispositivo interessante di Alcatel che speriamo possa ricevere consensi anche dal mercato. Un saluto da Francesco Colonna per Tecmacchia in Occhioteca